E' un esperimento fotonico Non fatelo a casa Non fatelo a casa Quando cavi questo Si, è lì qui Il cavallo Come una granata Cavi questo La granata è questo Si si No no, ma io ce l'ho fatto No, adesso E' un po' 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 Adesso Guardate il disastro Che ha fatto il Carlos Con quella bottiglia Del cazzo Eh? La bottiglia di Bex devastata A notare Il disastro Eh? L'ai visto bene? Ce l'hai successo? Ha fatto cadere una bottiglia di Bex Tutta rotta Come vite per terra non succede mica niente no no infatti ma no che non succede niente tanto domani vengono a pulire tanto domani vengono a pulire che ce ne fosse a noi ma domani ricordiamo un attimo i video ma infatti che ce ne fosse infatti adesso va a fare il disastro